Bene amici! Potevamo stupirvi con effetti speciali e colori ultra vivaci Ok, basta così, ma noi siamo scienza, non fantascienza E sì, perché qua niente tacca, niente goccia, niente notch, niente gocce, niente edge solamente tanta, tanta sostanza ma soprattutto tanta sostanza finalmente al giusto prezzo perché nel corso degli anni i pixel erano lievitati tanto ma andiamo a vedere le differenze velocemente qua ho un pixel 3XL, guardate il 3AXL perde la tacca è vero il display è un pochino più piccolo perché perde la parte qua attorno alle due fotocamere perde anche la camera anteriore grandangolare ma sono in ezie rispetto a quanto perde di prezzo le dimensioni sono sostanzialmente le medesime e vi faccio vedere come invece il 3A sia per me il pixel più interessante in questo momento perché rispetto al 3 è un pochino più grande quindi le differenze dimensionali tra XL e normale si riducono ma soprattutto è il giusto compromesso tra dimensioni si tiene bene, si usa abbastanza bene con una mano display comunque grande, un 5,5 pollici comunque OLED guadagna il jack per le cuffie è vero, i nuovi app perdono la back cover in vetro perdono un po' quell'aspetto sexy quando si va a toccare da un punto di vista estetico sono sostanzialmente uguali ma col policarbonato probabilmente guadagnino anche in resistenza perdono la ricarica wireless ma la batteria comunque vi farò vedere e vi dimostrerò che comunque dura tanto ha la ricarica rapida cosa perdono anche l'impernabilità sì è vero ma costano anche decisamente molto molto meno e l'esperienza d'uso nonostante un processore un po' più piccolino è sostanzialmente la stessa anche perché il software del pixel è il software del pixel non è Android Stock mi piace veramente tantissimo tanto che lui si guadagna il bollino di Best Buy perché andiamo a scoprirlo insieme e partiamo dalla confezione ovviamente per XL e A sono uguali vi faccio vedere velocemente il telefono dotazione abbastanza ricca perché abbiamo il cavo tipo C tipo C poi abbiamo l'adattatore OTG e per collegare anche delle chiavette USB ma anche per trasferire i dati da un telefono all'altro le cuffie in ear con i gommini suonano bene avete visto c'è il jack per le cuffie poi l'alimentatore che è da 18 watt e carica il telefono normale che ha 15 watt di batteria in un'ora e un quarto mentre l'XL lo carica circa in un'ora e mezza ecco qua l'XL ecco qua l'Ave lo faccio vedere anche ve li faccio vedere nelle due finiture vi dicevo prima policarbonato però il design non cambia parte opaca parte lucida mi piace il vezzo del bianco con il pulsantino accensione spegnimento arancioni arancione scusate ve lo sblocco ecco in protecità è dietro ma non ce lo sblocco con il volto la camera sporge un filino esattamente come i vecchi pixel qua sotto il pulsante per il volume e sotto c'è la type C l'altoparlante che è stereo perché la capsula auricolare svolge il compito di secondo altoparlante qua l'ho un po' sporcato qua invece c'è il vano per mettere una sim sola non c'è purtroppo come dicevo l'espansione per la seconda sim o per l'Sd seconda sim che è elettronica virtuale all'interno in Italia non è ancora stata abilitata il secondo microfono il jack per le cuffie desaparecido che bello ritrovare il jack per le cuffie e che bello trovare anche un always on display veramente efficace grazie al display OLED ambient si vede la canzone che sta suonando si vede il prossimo appuntamento e come vedete si vedono anche le notifiche con il doppio tap si accende il display ovviamente poi bisogna cliccare dietro oppure mettere il pin oppure si fare il codice perché non ci sblocca con il volto bluetooth 5.0, wifi, dual band, gps ok, nfc, android auto si tutto estremamente affidabile camera dietro da 12 megapixel ve l'ho detto 8 la camera anteriore vi parlo subito della batteria anche se, oh si si queste no ma sto anticipando un tema che verrà dopo che è quello dell'effetto bokeh vi sto dicendo anche se ci sono solo 3000 mAh di batteria anche questo è un tema che verrà dopo guardate a sera giornata molto intensa erano le 23, 27% di batteria con 3 ore e 27 minuti di display scarica molto costante ho usato tanto perché sono andato a Roma giornata con il rientro quindi ho usato con tanti cambicelle Sky, Goku per 1 ora e 39 mentre cambiava celle insomma veramente ho usato tanto intensamente e non mi ha tradito mentre l'XL sono arrivato a sera con circa il 30% quindi se qua arrivo a sera con un 30% di batteria residua qua ci arrivo con un 20% ma entrambi riescono a fare la giornata grazie alla batteria adattiva al fatto che non scaldano mai il processore Snapdragon 670 è veloce e non è energivro e poi vi parlo del display veramente una bella unità andiamo alla cartella di test vi faccio vedere subito qua la palette colori è un OLED è un Full HD+, entrambi è vero il Pixel 3 XL era un QHD ma diciamo la differenza non si nota per niente del 3 normale era Full HD del 3 XL era QHD qua invece sono entrambi Full HD ma ripeto la differenza sinceramente non la si nota sono entrambi bei display la luminosità raggiunge gli 800 lux non è il più luminoso ma comunque più che sufficiente per vederli sempre bene e poi il sensore di luminosità funziona sempre bene sempre affidabile è quello che vi dicevo sono dei telefoni molto affidabili senza baghettini senza problemini ovviamente il sistema operativo è Android 9 la cosa che fa un po' strana è che se andiamo a vedere qua le patch sono di marzo 2019 non sono ancora arrivate le patch di aprile è curioso comunque sono i primi a ricevere comunque le release principali sono tra i pochi telefoni che si possono flashare in beta semplicemente con per esempio Android Q tante funzioni per l'usabilità rimane lo squeeze secondo me è comodissimo basta fare così guardate il click e si attiva l'assistente vocale il click è praticamente uno squeeze del telefono e questo funziona anche a telefono spento per esempio io faccio così che tempo farà? che tempo farà mercoledì a Londra? e come vedete no porca miseria devo andare a Londra no in realtà questo mercoledì devo andare a Berlino è mercoledì prossimo che devo andare a Londra ma vi dicevo anche a telefono sbloccato questa funzionalità è veramente comodissima poi avete visto prima il modo cosa vuol dire che noi lo giriamo così e lui dopo qualche secondo andrà automaticamente in non disturbare sono delle piccolezze ma che sono a volte comodissime cosa mi manca invece? mi mancano un po' di gesture più avanzate perché è vero che qua abbiamo swipe su per andare al multitasking se proseguiamo lo swipe ne facciamo un secondo andiamo nel drawer non possiamo avere tutte le applicazioni nelle schermate home ma dobbiamo comunque tenerci il drawer a me non dispiace ma mi manca tanto la possibilità di tornare indietro con gli swipe laterali qua l'indietro si fa con questo pulsante e questo va a rubare un po' di spazio sotto visto che comunque la corrige è abbastanza importante sia sotto che sopra si poteva mangiare un pochino da quel punto di vista però ci sono le gesture quelle laterali vedete si possono andare a scorrere le ultime applicazioni semplicemente facendo così oppure così si passa tra le ultime due app aperte insomma le gesture classiche poi qua swipando a destra abbiamo ovviamente Google Now vi parlo di parte telefonica e questa è un'altra cosa che mi è piaciuta tanto ovvero l'affidabilità della parte telefonica ultimamente tendiamo un po' a sottovalutare questa cosa ma questo telefono prende bene ma soprattutto sentite che viva voce è veramente tanto potente e io sono tranquillamente riuscito a fare delle chiamate in viva voce con il telefono senza dover mettere l'auricolare cosa che non sempre mi capita e tra l'altro ottima ricezione si sente molto bene anche dalla capsula auricolare per quanto riguarda la velocità vi faccio subito vedere il trittico non ho nessun tipo di lag di problema appena carica i contenuti il telefono è fluido e veloce vi faccio vedere anche Twitter lo faccio vedere facendo uno scorrimento così e poi faccio vedere il gestore delle pagine ok fortunatamente non si è sloggato nel frattempo avevo provato su altri telefoni e vedete è molto veloce e ovviamente anche il multitasking guardate quante app ho è veloce e attivo i soliti gesti si tiene premuto qua per metterlo in schermo diviso per avere informazioni sulle applicazioni insomma il software è sempre quello che comunque mi piace tantissimo non è velocissimo ad caricare Real Racing ma l'altra cosa che mi piace tanto vabbè a parte avere qua a portata di dito la ricerca Google che è sempre molto comodo e il feed della la vibrazione perché è veramente molto molto bello è preciso è aptico è a livello del Pixel 3 ma anche di iPhone sapete quei 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 vibrazioni tic 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 lì proprio precise vi dicevo prima dell'uso una mano guardate la dimensione è è bella è giusta non è troppo padellone l'unica cosa è che forse scivola un un filino scivolava meno il vetro però questo se vi scivola e cade probabilmente non si rompe forse è meglio così ma ci ho detto parliamo delle fotografie perché il comparto fotocamera è il suo punto forte perché ha lo stesso comparto fotocamera del Pixel 3 che con una sola camera fa delle foto incredibili ma anche i video ci sono anche altre e altre possibilità e ve le faccio vedere dal timelapse è in realtà è una funzionalità ancora in beta arriverà tra poco io che sono nel programma sviluppatori ce l'ho ma comunque arriverà playground per la realtà aumentata lens cogli latino insomma tutte le funzionalità di Pixel ci sono i video vengono veramente molto bene stabilizzati 60 frame per secondo la diciamo il frame rate massimo modalità ritratto anche qua con una sola foto fa degli ottimi modalità ritratto e anche le foto panoramiche ma poi poi ve le faccio ve le faccio vedere perché ne ho scattate parecchie a Roma allora per cambiare la camera altra cosa che mi piace gesture basta fare così e vedete si passa alla ciao camera anteriore si fa così e si passa alla camera posteriore e poi non vi ho detto della foto notturna che con la realtà che con l'intelligenza artificiale scusate riesce a fare delle foto notturne veramente incredibili incredibili niente ovviamente la griglia possibilità di attivare l'HDR plus di scattare in raw di comprimere i video in H265 oltre che in H264 qua vi faccio vedere la risoluzione delle foto qua vi faccio vedere la risoluzione dei video fino al 4K ecco al 4K si perde la stabilizzazione si perdono anche i 60 frame per secondo ma andiamo al succo ovvero alle foto ovviamente l'applicazione quella standard di Google foto ecco se prendete un Google fonino il bello è che non ci sono applicazioni duplicate o addirittura triplicate sì quello ero io da piccolo sono le foto che ho su Google foto e partiamo da Roma Roma sempre bellissima tra l'altro ho usato Google Lens per avere informazioni su alcuni monumenti di Roma ecco questa è la prima foto con zoom guardate questa è la foto normale questo è lo zoom massimo mi pare che arrivi a 8x è vero non è come per dire il Huawei che ha lo zoom ottico e quindi ha una definizione pazzesca ma comunque ha veramente un ottimo zoom questi siamo noi questo è sempre Roma qua un altro esempio di zoom guardate quanto ha ravvicinato e non sgranato particolarmente la i mattoni mamma quante foto ho fatto ma Roma è veramente bellissima Roma centro con i fori qua un altro esempio di zoom e poi il Colosseo questo è il Colosseo in controluce questo sono sì io è chiaro davanti al Colosseo foto turistica ma non poteva mancare e poi questo è dentro al Colosseo ma soprattutto guardate questa è una foto che ho fatto in modalità VR guardate con la panoramica si può girare o se si pubblica sui social si può tranquillamente andare a navigare in 360 e si fa ovviamente facendo più scatti ed è molto semplice da realizzare poi questa è una foto fatta con l'effetto bokeh quando si fa l'effetto ritratto il telefono salva sia la foto normale sia la foto con l'effetto ritratto e devo dire che scontorna veramente molto bene immancabile sia la cacepepe sia i bucatini alla matriciana ma parliamo di foto notturne guardate questa foto è venuta veramente molto bene proprio con la funzionalità notturna guardate anche la lampada come non fa una macchia di luce ma è ben definita classica panoramica guardate qua capello al vento eppure è riuscito a scontornare bene e questa foto con l'effetto ritratto è venuta meglio di alcune di alcune a volte allora magari un passettino indietro ci sono dei telefoni che hanno qua la terza camera o la seconda camera da 2 megapixel per l'effetto bokeh è assolutamente inutili perché scontornano molto peggio di questo telefono che ha solamente una camera e poi qua un'altra foto fatta questa non con modalità notturna con modalità normale punte scatti un ascensore buissimo e traballante ragazzi guardate la scritta quanto è nitida ma soprattutto i colori quanto sono fedeli non tende al giallino bello mi piace le foto mi sono piaciute veramente tanto e mi sono piaciuti tanto anche i video non vi metto qua un esempio perché perché sarà un video particolare è un play vi consiglio di non perderlo perché non so la filosofia dei play sta un po' cambiando voglio insomma voglio proseguire quel discorso che ho fatto con il ragazzo che mi aveva chiesto di regalare un telefono non con quel ragazzo ma vabbè lo vedrete dai basta pipponi almeno in questo video vi parlo dell'audio ve l'avevo detto già prima in viva voce come si sentiva bene ma adesso classica canzone Spotify sentite come pompa questo telefono volume massimo esce da sotto ed esce da qua davanti l'audio quindi sente molto bene quando lo mettiamo così si rischia un pochino di tappare l'altoparlante qua però si sente comunque molto bene lo tengo in orizzontale non lo metto in verticale per in realtà entrare nell'applicazione YouTube ma vi faccio vedere come il display sia 4 sia full HD ma HDR vedete e come si veda bene guardando un video di YouTube si vede veramente benissimo i neri sono incredibili i colori sono sì un po' sparati ma comunque molto incisivi e si possono comunque andare a tarare nelle impostazioni del display vi dicevo prima che ha il jack per le cuffie e il prezzo le dimensioni l'affidabilità sono la chiave 399 euro il 3A già per padellosità e per i 479 amo meno l'XL guardate quanto è più grande è un pochino più padelloso costa 80 euro in più sì è vero la batteria qua è da 3700 mAh dura un po' di più però niente ragazzi questo è il perfetto medio di gamma che può però tranquillamente sostituire qualsiasi top di gamma potrei bocciarlo perché non ha l'espansione di memoria perché non è impermeabile perché non è borderless ma chi se ne frega funziona benissimo piacevole batteria che dura fluido ottima parte telefonica ottimo feed della vibrazione re dell'uso quotidiano schiacci e gli puoi parlare best buy un saluto da Andrea galeazzi punto com mi piaciuto un sacco grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti